La madre di Gesù 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 Grazie per essere stati con noi oggi su Ecco tua madre Ricordiamoci sempre di mettere in pratica le parole di Gesù Di accogliere nostra madre E anche di farlo in unione tramite l'intercessione di San Pio Grazie e che Dio vi benedica Of St. Padre Pio Grazie a tutti God bless you Grazie a tutti Grazie a tutti